Allora parliamo del gusto, ok? Quando noi mangiamo oppure beviamo qualcosa riconosciamo subito il sapore che ha, ok? Per esempio la cosa che mangiamo potrebbe avere un sapore dolce, come per esempio quello del cioccolato, oppure anche il gelato, una fetta di torta, una caramella, ok? Oppure potrebbe avere un sapore amaro, come per esempio quello del caffè. Non so se vi sarà mai capitato di chiedere di assaggiare con la punta della lingua un po' di caffè, ok? Ha un sapore molto amaro. Oppure un sapore aspro, cioè acido, ok? Aspro come quello del limone, ok? Del pompelmo per esempio. Oppure le cose che mangiamo potrebbero avere un sapore salato, come per esempio quello appunto delle patatine fritte, ok? Perché noi riconosciamo i sapori? Come facciamo a riconoscerli? Li riconosciamo perché in bucca, soprattutto sulla lingua, ci sono milioni, è un numero grandissimo, di minuscole, minuscole, piccolissime cellule che svolgono proprio questo compito, cioè il compito di farci sentire il sapore delle cose, ok? Queste piccolissime minuscole cellule che vedete qua si chiamano papille gustative, ok? Questa è un'immagine ingrandita, ovviamente, perché ad occhio nudo queste papille gustative non si vedono, ok? Queste papille gustative, attenzione, non sono tutte uguali perché ognuna di esse, cioè ognuna di queste papille gustative, svolge un compito speciale. Per esempio, guardate bene l'immagine. Le papille gustative che sono, diciamo, specializzate per farci riconoscere il sapore dolce, quindi quello del cioccolato, di un gelato, il sapore delle caramelle, si trovano qui. Vedete? Questa è la lingua, questa è la parte della lingua che ci fa riconoscere il sapore dolce, cioè dove ci sono le papille gustative che ci fanno riconoscere il sapore dolce, ok? Quindi diciamo sulla punta della lingua, ok? Andiamo avanti. Vediamo invece qual è la zona della lingua dove ci sono queste papille gustative che ci fanno riconoscere il sapore amaro, come per esempio quello del caffè, l'abbiamo detto prima, ma oppure anche quella della cicoria, non so se l'avete mai mangiata, oppure quello della rucola, ok? Se la mamma ve l'ha mai messa in mezzo all'insalata. Questi alimenti hanno un sapore amaro. Quindi questa è la zona della lingua, quella diciamo vicino alla gola, per capirci, ok? Che ha le cellule, ha queste papille gustative specializzate per riconoscere il sapore amaro. Andiamo avanti. Qui invece vediamo che le papille gustative, vedete queste che sono la zona colorata di azzurro, ci sono le papille gustative che riconoscono il sapore acido, cioè quello aspro, eh? Come quello del limone o del pompelmo. Andiamo avanti. e poi c'è il sapore salato, ok? Quindi le patatine fritte, ovviamente, ma ci sono anche per esempio le arachidi oppure i salatini, no? Che si usano per l'aperitivo quando, no? Si invitano degli amici o per le feste di compleanno, va bene? E appunto queste zone che vedete colorate di verde sono le zone della lingua dove ci sono le papille gustative specializzate per il riconoscimento del sapore sanato. 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 sanato.